L'appello a garantire una soluzione di alloggio per i professionisti del mondo della sanità che avevamo lanciato al presidente Enrico Rossi come ordine degli infermieri della Toscana e che io avevo rilanciato a livello locale con una richiesta al prefetto è stato raccolto e posso quindi esprimere tutta la mia soddisfazione. Il presidente dell'ordine delle professioni infermieristiche di Arezzo Giovanni Grasso che è anche coordinatore per la Toscana commenta il protocollo di intesa sottoscritto tra Regione Toscana e ordini regionali di medici ed infermieri. Verrà messo a disposizione un alloggio a medici, infermieri e personale sanitario che è in prima linea per la lotta al coronavirus consentendo così ai professionisti di tutelare i propri familiari conviventi. Nel dettaglio l'accordo che coinvolge non solo il sistema degli albergatori ma anche quello degli agriturismi rende disponibili le strutture ricettive non soltanto per gli operatori sanitari che necessitano di isolamento perché positivi al covid-19 ma anche per i pazienti senza necessità di ricovero ma positivi al tampone. L'accordo consentirà infine di dare risposta a un'altra esigenza quella degli operatori neoassunti che arrivano da altre realtà territoriali e che necessitano di trovare immediatamente un alloggio per iniziare a lavorare nei nostri ospedali. L'individuazione delle strutture sarà compito della ASL a carico delle quali sono anche imputati i costi degli alberghi e dei servizi essenziali che dovranno essere garantiti.